Niki Giussino, il disturbatore televisore Tormasia, www.niki-giussino.it Sono le ore 8 ore 13 e 23 e mi trovo con Mauro Dove siamo stati prima Mauro? Noi siamo stati prima a Montecitorio e pertanto stavo facendo una scelta delle mie ragazze Ho scelto questa come ragazza, vedete? Questa è la ragazza mia E questa invece, però è meglio la mia Fallo rivedere, fallo rivedere E questa invece è la ragazza di Mauro Molto bella Scegliete, fate voi una volta scelta Aspetta che zumbo Abbiamo anche un altro operatore qui Umberto Broccoli Come si chiama? Severini, no Broccoli La ragazza di Mauro Beh insomma, se si è andato a letto Ma ci si è andato a letto Il ragazzo di Niki Questo è il fidanzato di Niki Ma insomma, ci si è andato a letto con questa qui? Beh, ci sono stato a letto, ci sono pure saltato sul letto Anzi, lei ci ha pure saltato sul letto Infatti, vedi, è felice Adesso è felice Invece, quando prima di saltarci sul letto Non era felice Non era felice Stava in questa posizione Guardate Scusate, abbiate pazienza Stava così Prima stava sul letto Stava così Stava quasi felice Poi è diventata completamente felice Quando, dopo che abbiamo fatto l'amore È diventata così Tutta rilassata Molto rilassata Molto rilassata Insomma, si è divertita Si è divertita, sì Io ho 18 centimetri No, 16 Non me lo ricordo più Me lo sono misurato dal 68 16 meno 5 Dal 73 che non me lo misuro più Comunque si è chiaro che ho 16 centimetri,5 Basta, basta Siamo contenti Meglio quello che nasce Le perplessità di Mauro e le misure Salve